Tutto per turno, per dentro della cucina che avevo regno da mammella mia, stateva un'estremità nardonata, arbusta in bella fantasia. A gratello, a matillo da cialare, da paiolella, a fru, a ciocallare, a spasa grossa, usare la spaganarda, il pepe, il pesatore e il faranaro. A sopra la credenza, a fianco di piatto, la macinina e la posa del caffè, il zucchero attaccato nelle boate, il lazaretto e i cipi del paletto. Lavorata nella cappa del cammino, in un relogio fermo di una vita, l'aria acquaiata da sapienza antica, essenza di famiglia e di fatica. La bucarilla senza una pretesa, manazza che aveva il cuore e mi encantava che l'atmosfera piena di sorprese e suggerisce che acquariava. bella serenità senza pensire, che a rapanzarci un'uomo per aire, quando, come un riflesso da una stella, luceva un sorriso da mammella. La raccolta d'Inda Cucine de Mammel diventa uno spettacolo. Venerdì 24 marzo, nell'auditorium di San Pietro, insieme a un bel gruppo di amici, ci sarà divertimento, musica e, ovviamente, alcune delle poesie di questa mia ultima fatica. Madonna usa d'ora. Vi aspetto.